Facciamo un confronto non proprio americana tra eserciti. Iniziamo una nuova rubrica che poi riprenderò di tanto in tanto in cui paragoniamo un paio di armate e in questo caso partiamo da due armate classiche in quello che potrebbe sembrare un confronto impari ovvero i Cavalieri d'Oro contro i 108 Spectre. Perché i Cavalieri d'Oro? Perché a parte le 5 ben note eccezioni e qualche altro i Cavalieri di Bronzo d'Argento in tutte le saghe, in tutti i manga sembrano del tutto inutili o assenti contro gli Spectre. Come dicevo può sembrare un confronto impari perché in effetti abbiamo 12 contro 108 quindi numericamente non c'è del tutto paragone. Però poi come vedremo andando un attimino ad approfondire meglio così impari non è o rischia addirittura di essere impari nella direzione opposta rispetto a quello che potrebbe sembrare. Che cosa sappiamo di questi due eserciti? Dunque i Cavalieri d'Oro li conosciamo tutti, non c'è neanche bisogno di dirlo 12 guerrieri che hanno mediamente un livello cosmico molto molto alto non a caso sono i riti di Atena e coprono quasi tutti i poteri esistenti con una sola eccezione. Abbiamo ovviamente poteri cosmici con i vari saga e così via abbiamo tecniche più fisiche come Shura con Excalibur abbiamo poteri spirituali con Shaka poteri psichici con Mur abbiamo personaggi che sono dei picchiatori puri come Ioria o anche Scorpio tutto sommato abbiamo poteri congevanti con Aquarius tecniche più insidiose con Cancer e Fish insomma tutte le tipologie di rotte di Senseia sono grosso modo coperte mancano praticamente soltanto un musico e qualcuno che domini le fiamme però sono entrambe categorie alle quali tutto sommato si può sopperire. I 108 spectre in quanto 108 ovviamente hanno un range estremamente ampio abbiamo i personaggi più puramente fisici come il buon Radamante ma abbiamo anche quei personaggi più insidiosi come il cube visto in Lost Canvas prendo in considerazione gli spectre di tutte le opere per competenza in questo caso abbiamo personaggi che dominano le fiamme come Kagao abbiamo manipolatori nel senso stretto del termine come Minosse e abbiamo insomma un po' di poteri molto molto diffusi detto questo però gli spectre hanno anche un grossissimo punto debole ovvero che di 108 non dico che 100 siano scarsi ma un'ottantina sembrano veramente poco più che carne da macello gli spectre hanno un range di forza enorme dove accanto a guerrieri molto molto forti come appunto i tre generi, i tre comandanti, i tre giudici e qualche altro visto sia nella serie classica sia in Lost Canvas o Next Dimension ma ci sta anche un numero enorme di spectre che fanno soltanto numero che sono quei classici spectre che vengono farciati in massa da qualsiasi personaggio, protagonista o cavaliere d'oro senza nessuno sforzo li abbiamo visti in tutte le serie spectre che attaccano in gruppi anche numerosi però poi basta un gesto del cavaliere di turno per fantumarli e farli a pezzi quindi nonostante siano numericamente tanti ma la qualità in questo caso è bassa è una di quelle situazioni in cui tanta quantità, poca qualità un vantaggio che gli spectre hanno sono i poteri che derivano da Resurplici per esempio in Next Dimension scopriamo che Resurplici rendono gli spectre completamente immuni ai poteri di Death Mask del Cancro o comunque ai poteri dei Cavalieri del Cancro Lost Canvas poi dà Manigoldo dei poteri extra che non sono presenti nella serie classica o in Next Dimension proprio per compensare un po' queste mancanze però diciamo che vi si può considerare più un pregio di Manigoldo che non qualcosa che sia tipicamente parte dell'arsenale del Cancro quindi per esempio i Cavalieri della Quarta Casa contro gli spectre partono in svantaggio detto questo però Death Toro nella serie Next Dimension dimostra che c'è una disparità talmente grande proprio di forza cosmica in alcuni casi che anche un Cavaliere d'Oro i cui colpi segreti non abbiano effetto può fare a pezzi un bel po' di nemici semplicemente combattendo fisicamente combattendo a mani nude schiaffoni, pugni, cose del genere sono molto efficaci contro gli spectre di media forza poi gli spectre hanno appunto queste enorme varietà di poteri alcuni dei quali molto insidiosi cioè c'è una cosa se c'è una lancia da spezzare a vantaggio degli spectre è che dove in termini di potenza pura devastante non ce ne sono tanti veramente se ne possono contare giusto 4-5 però ci sono tanti poteri di quelli che possono anche permettere di vincere contro nemici più forti vediamo Niobe nella serie classica far fuori Aldebaran con il suo profumo e se non fosse stato per diciamo il messaggio lasciato da Aldebaran avrebbe rischiato persino Moore vediamo Farao che è comunque un musico e come abbiamo detto tra i Cavalieri d'Oro mancano musici quindi un personaggio puramente fisico contro Farao potrebbe trovarsi in difficoltà abbiamo Papion che comunque è una discreta telecinesi che gli permette di giocarsela per un po' contro Moore abbiamo Cube e Wimber che in Lost Canvas hanno questi poteri sonori che poi portano alla morte un guerriero più forte di oro come Rasgado, Asgard del Toro insomma abbiamo una serie di personaggi che un elemento di rischio tutto sommato lo comportano e infatti gli spectre sono tipicamente nemici insidiosi nemici che non bisogna sottovalutare perché cercare di prenderli sotto gamba può essere anche fatale per un Cavaliere d'Oro va detto però che questa è una situazione che avvantaggia gli spectre soltanto a condizione che il Cavaliere d'Oro non sia pronto si lasci in qualche modo prendere di sorpresa infatti la maggior parte delle situazioni che ho descritto un attimo fa avvengono con i Gold Saints di turno che non è pronto alla battaglia soltanto Papion affronta Mure in campo aperto e alla fine infatti perde perché per quanto abbia una buona telecinesi quella del Cavaliere d'Ariete è decisamente superiore inoltre come dicevo i Cavaliere d'Oro hanno un'enorme gamma di poteri che permettono di ovviare anche a queste tecniche un po' più insidiose dei Cavalieri degli Spectre di Iade gente come Shaka come Mure appunto senza poi pensare alla potenza devastante di un saga di Gemini è molto difficile che vengano messi in difficoltà con attacchi a sorpresa o cose del genere a meno di non essere stati già precedentemente indeboliti da tecniche apposite poi c'è il discorso armature corazze i Cavaliere d'Oro come sappiamo indossano le Gold Cult che non sono le armature assolutamente totalmente indistruttibili che a volte i fan pensano ce ne sono un bel po' di situazioni in cui vengono lotte anche a mani nuda però sono comunque mediamente molto molto più forti dei Resurpici i Resurpici sembrano non avere una resistenza fissa ma variano molto in base al cosmo di chi lo indossa vediamo i Resurpici per esempio dei Comandanti che mantengono e resistono abbastanza bene agli attacchi mentre i Resurpici dei Guerrieri di basso livello vengono fatti a pezzi quasi come se niente fosse anche la Surpici più resistente come potrebbe essere quella di un Minos sembra comunque inferiore ad un'armatura d'oro quindi i Gold hanno anche un vantaggio a livello di corazze non è un vantaggio sempre determinante per esempio in Lost Canvas vediamo gente come Violet o anche Une danneggiare abbastanza facilmente le armature d'oro addirittura Violet semplicemente stringendo il pugno inclina l'armatura del Reone mentre la frusta di Une danneggia abbastanza quell'armatura dell'Ariete di Sion quindi le armature non rendono i Cavalieri d'oro assolutamente invincibili però è sicuramente un vantaggio meglio avere una corazza solida che non averla un'altra cosa che manca agli Spectre sono delle buone contromisure sono delle opzioni difensive i Cavalieri d'oro coprono come ripetuto già un paio di volte un po' gli scenari possibili e tra questi ci sono anche dei personaggi con tecniche smaccatamente difensive basta pensare a Can di Shaka o Muro di Cristallo di Virgo volendo anche al Sarcofago di Ghiaccio di Camio al contrario negli Spectre le tecniche difensive sono quasi del tutto assenti così su due piedi mi viene un po' in mente il Remo di Caronte ma davvero è poca roba vediamo che alla fine Pegasus quando il suo cosmo diventa mano mano più potente riesce a superare la difesa del Remo quindi non è sicuramente qualcosa che resterebbe a lungo in piedi contro le cuspi di Scarlatte o il Sacro Leo i Spectre hanno poco in termini di difesa e hanno poco anche in termini di contromisure non sembrano mai dimostrare cose particolarmente adeguate contro le rose dei pesci contro i poteri congelanti dell'acquario e così via sembrano insomma essere un esercito che ha un netto di numeri molto alti e ha un netto di modi anche fantasiosi e subdori per uccidere il nemico ma mancano un pochettino delle basi mancano un pochettino di elementi adatti a permettergli di giocarselo a rapario di portarsi in vantaggio contro l'esercito di elite di Atene sembra non essere un caso che in tutte le saghe in cui gli Spectre e i Cavalieri si sono scontrati e finora ne abbiamo ben tre la maggior parte degli Spectre sia o stata fatta fuori fuori scene off screen mentre i Cavalieri sono quasi sempre stati sconfitti soltanto o da Spectre assolutamente di elite come i generali i tre comandanti oppure da divinità e infatti spesso e volentieri Ate deve poi ricorrere a Hypnos Thanatos nel caso di Lost Canvas anche a Yoni Roy mentre in Next Dimension il solo Suikyo ha sicuramente fatto un bel po' di danni e ha scavato una parte del santuario però comunque è stata un'eccezione anche quando Vermeer del Grifone è arrivato a combattere magari se non fosse stato pericchi avrebbe sconfitto abbastanza facilmente Deathlord ma ciò non toglie che alla fine non si è riuscito nemmeno a superare la quarta casa quindi nel compresso sembra che la pericolosità degli Spectre nonostante questo numero estremamente alto sia spesso dettata dalla presenza delle varie divinità a servizio di Hade e questo secondo me in realtà è un po' un peccato perché è un esercito che a un netto di tutto dà sempre l'impressione di essere abbastanza sprecato e che sarebbe stato meglio vedere con magari meno guerrieri ma più validi alla fine di 108 Spectre se andiamo a guardare la serie classica ne restano impressi una dozzina scarsi e anche di questa dozzina quelli che davvero veramente danno una sensazione di forza sono ben pochi è un peccato perché sarebbe stato più interessante per la serie avere un esercito che avesse magari meno marmaglia sullo sfondo ma personaggi di maggior spessore sia guerriero sia umano però ecco al netto di tutto ciò paragonando le due armate credo che senza aiuti di divinità i cavrieri d'oro siano nettamente superiori in questo caso in assenza di barriere insomma di tutti altri fattori che possano modificare un po' le forze in campo e non ho nemmeno parlato delle armi della bilancia perché è una situazione già abbastanza impari di suo che ti ha in mano anche le armi di vibra insomma non sembra assolutamente necessario un po' come sparare sulla croce rossa voi cosa ne pensate per quanto mi riguarda in questo primo confronto tra le armate gold versus spectra la vittoria è dei cavrieri d'oro voi come la vedete considerando tutte le serie gli spectre se la possono giocare vi piacerebbe vedere spectre più forti o tutto sommato va bene così scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto da me anche stavolta è tutto alla prossima ciao